Sensazioni molto molto forti te l'ha dato la festa di Sant'Antonio a Macerata Campania. Sì, Sant'Antonio come la chiamano loro, la musica contro il diavolo. La musica di Sant'Antonio contro il diavolo è probabilmente il ritmo musicale più antico di Europa, l'unico che si è conservato senza soluzioni di continuità. Che questo paesino, una piccola comunità contadina schiacciata tra la reggia di Caserta e l'antica capoaromana che vive in una bolla senza tempo, conserva da migliaia di anni. Ed è una musica incredibile perché è una musica che ti prende direttamente nei lombi, cioè nella carne, ti va nella pancia e ti insegna da un lato a rispettare le persone, ma soprattutto poi loro, gli abitanti di Macerata Campania utilizzano per contrastare il diavolo, per contrastare il male. A Macerata Campania ci sono 10.001 musicisti, i bambini appena nati dalla culla già partecipano a questo ritmo che arrivando nel paesino si sente da lontano. Tum, tum, tum.